Passione, impegno, coinvolgimento e capacità innate di far sorridere e al tempo stesso commuovere. Tutto questo e molto di più è la compagnia e gubina del Teatro della Fama, pronta a tornare dopo il lockdown domani sera alle 21.15 nello spettacolo che parte integrante della 59esima stagione estiva al Teatro Romano. Historia di Lupe Francesco, lo processo dello popolo. Questo è il titolo della rappresentazione che rielabora in forma dialettale tratti storici relativi al poverello di Assisi, pronta ad appassionare gli spettatori domani sera nella magica cornice del Teatro Romano con la possibilità di vedere sul palco anche un ospite speciale. Historia di Lupe Francesco innanzitutto sono dei testi che scrisse Lucio Vinciarelli insieme a Nicolò Favaro che noi abbiamo ripreso, allargato, perché in realtà è uno spettacolo di strada, lo facemmo in passato al mercato medievale o a San Francesco. Abbiamo deciso di portarlo in scena al Teatro Romano quest'estate proprio in vista, purtroppo a causa del Covid, perché le limitazioni non ci permettevano di creare uno spettacolo più completo. Per cui sono una serie di monologhi che noi abbiamo ritrasformato in uno spettacolo teatrale vero e proprio, ampliando, inserendo delle musiche, è tutto in lingua eugubina, ma non un eugubino, è un volgare eugubino. Sono gli occhi dei personaggi che incontrano Lupo, che imparerete a conoscere, e Francesco. Ci sarà una sorpresa se il leader burocratico lo riusciamo a concludere prima di venerdì, un attore in più che conoscerete però solo venendo al Teatro Romano. Per i costumi medievali fondamentale il supporto di Maggio eugubino e società balestrieri. Le suggestive scenografie invece sono state offerte dal quartiere di San Giuliano. Esordio alla regia per Cecilia Pastorelli, mentre caratteristica è anche la locandina che preannuncia l'evento messi in atto in collaborazione con Giugi Teatro Servizi. Il bozzetto del manifesto è stato creato da Letizia Bianconi, che è una giovane del Teatro della Fama che sta studiando all'Accademia a Urbino e gli è stato proposto di creare la sua visione di Lupo e Francesco, partendo dal testo. E questo è quello che è venuto fuori. Siamo ancora in piena estate, la pura del Covid è ancora viva, ma la volontà del Teatro della Fama è quella di guardare oltre e continuare a lavorare su nuovi progetti teatrali in vista del 2021. Appuntamenti futuri ce ne saranno sicuramente, un po' sulla scia di Romeo e Giulietta che abbiamo fatto sia l'estate scorsa qui che quest'inverno prima del Covid, precisi prima del Covid a teatro comunale. Un bel lavoro soprattutto anche con i ragazzi giovani sul mestiere dell'attore, aiutati e coaiuvati da Riccardo Tordoni che ci aiuta e ci guida in questo momento storico della compagnia. Quindi preparatevi perché nel 2021, scarammaticamente parlando, andremo in scena con un qualcosa di nuovo.